Raul Castro si è dimesso in qualità di segretario del Partito Comunista, dopo ben 60 anni di tempo inizia per Cuba, ci troviamo nelle grandi antille, una nuova era, un nuovo inizio, una nuova situazione infatti lui stesso ha rinunciato attraverso un comunicato dell'incarico di primo segretario la soddisfazione è stata tanta e tanta, però preferisce, diciamo così, farsi da parte si dimette da segretario del Partito Comunista, un nuovo avvio, un nuovo iter cubano per quanto riguarda Cuba, questa bellissima isola delle grandi antille che si trova ubicata in centro America, vediamo quello che accadrà, 60 anni e tanto di regno proprio a Cuba dove Raul ha gestito questo paese così bello, ricco di acqua, di storia e al tempo stesso anche di fascino. Bene, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, datemi le vostre opinioni, ci tengono a averle, fatemi sapere cosa ne pensate, un cordiale salutone a voi da Leandro, narratore italiano e al prossimo video.